A Castellabate la mensa scolastica diventa ecologica, infatti sono state sostituite le stoviglie usaggetta e le bottigliette di plastica con utensili rigidi e riutilizzabili. Si tratta di un progetto che propone l'uso di strumenti utili per salvaguardare l'ambiente messo in atto dal comune di Castellabate, che provvederà durante i pasti tramite la Castellabate Servizi alla distribuzione gratuita di uno specifico kit ecologico pensato per gli alunni. E' stata effettuata la consegna questa mattina ai bambini delle scuole dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Castellabate che attraverso il kit mensa ogni giorno potrà aiutare l'ambiente portando con sé il kit composto di bicchiere e posate chiaramente colorati proprio da dare un tocco di allegria anche ai bambini durante il momento della mensa, un momento importante educativo, quindi educativo sia sotto il profilo alimentare che ambientale a questo punto. La risorsa ambiente è stata toccata più volte dal comune di Castellabate perché c'è stata una rivoluzione sia a livello di raccolta differenziata ma passa soprattutto dalla scuola e i bambini accolgono sempre volentieri queste novità. Saranno loro i cittadini del futuro pertanto più educazione ambientale viene effettuata sin da piccoli maggiore sarà il rispetto per l'ambiente che poi avranno da adulti. L'ambiente è uno degli aspetti che noi curiamo di più nel nostro curriculum di istituto rispetto dell'ambiente quindi delle regole. Questo si allaccia anche ad altri progetti come frutta e verdura nelle scuole che è di prossima attuazione. Il rispetto dell'ecologia sono temi importanti della scuola primaria e di tutto l'istituto comprensivo Castellabate. Con molta gioia accogliamo questa iniziativa perché sicuramente è lodevole e promuove quelle attività che noi comunque normalmente facciamo in classe quindi con questo piccolo dono non si fa altro che intensificare un'attività che comunque quotidianamente viene svolta nelle nostre classi proprio di sensibilizzazione verso l'ambiente e l'ecologia in genere. Abbiamo condiviso con l'assessorato e con il comune di Castellabate la volontà di rispettare maggiormente l'ambiente. Si continua con la logica che abbiamo cominciato lo scorso anno quindi l'eliminazione delle bottiglie di plastica e quest'anno abbiamo pensato di eliminare totalmente tutto quello che era monouso quindi bicchieri e anche risparmiare per quanto riguarda il consumo di detersivo per quanto riguarda le posate. Quindi è questa la logica di azzerare, di fare una mensa a impatto zero. I bambini hanno avuto in omaggio da parte del comune della Castellabate Servizi questo kit, lo riporteranno a casa, lo faranno lavare naturalmente dai loro genitori così anche per una maggiore sicurezza rispetto all'igiene personale e lo riporteranno a scuola per utilizzarlo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!